Record per l'export dell'agroalimentare in Campania che fa registrare un più 13% attestandosi tra le performance migliori del paese. Fanno meglio infatti solo Molise e Basilicata. E quanto emerge da un'analisi della Col di Retti Campania sulla base dei dati Istat, un trend che secondo il presidente regionale dell'associazione di categoria conferma il dinamismo delle imprese campane nonostante le difficoltà. Le ultime rilevazioni hanno dimostrato una grande dinamicità, un gran dinamismo da parte delle imprese, soprattutto nell'agroalimentare, quindi abbiamo visto un trend di crescita che si aggira attorno a cifre importanti, interessanti, che sfiorano il 13%. Secondo il presidente Masiello però le esportazioni andrebbero accompagnate con infrastrutture adeguate alle nuove sfide. Sicuramente avremo bisogno di piattaforme e di capacità anche di saper introdurre innovazioni utili, non solo alle comunicazioni, alle relazioni tra persone, ma anche alla capacità di relazioni tra i mercati e soprattutto anche l'opportunità di arrivare rapidamente con le merci nel mondo. Ma credo che sia anche importante andare verso rapporti di filiera codificati, che siano durevoli nel tempo, che possono assumere una forma di prevedibilità e sostenibilità.